tecnica guardarsi allo specchio quando scatta l'ora prima di mettersi a tavola è consigliabile virare verso uno specchio e guardarsi segui l'indicazione dell'esercizio cerca di osservare bene di ricercare la tua bellezza la prima cosa da fare è guardarti allo specchio osserva il tuo viso i tuoi dettagli passa prima alla fronte poi agli occhi il naso e infine le labbra la bocca devi guardarti a mente vuota per cercare la tua bellezza cerca di rilassare i tuoi lineamenti e accenna anche un minimo sorriso accendi il tuo sguardo ripeti tutto il procedimento almeno per tre volte questo ti serve a portare via tutto ciò che di tensione è sul tuo viso mentre osservi la tua immagine ripeti mentalmente sto facendo affiorare la mia immagine un'immagine che non a tempo è fuori dal tempo è felice serena ora prova a proiettarti in un'epoca diversa gioca col tuo viso con l'espressività prova finché non la vedi disegnata sul tuo volto stesso osservane l'armonia perduta guarda in faccia questa armonia e cerca di prenderne coscienza a questo punto truccati come più ti piace soffermati sulla bocca utilizza il tuo rossetto preferito colora le labbra con cura fissa dentro di te la nuova immagine di questo tuo viso come era prima e come ora un viso attraente seduttivo il viso di una donna che sa piacere con questa consapevolezza mettiti a tavola nel caso del genere maschile l'esercizio diventa diverso guardati allo specchio osserva con attenzione ciò che sei a questo punto prendi dall'armadio un accessorio un capo di abbigliamento che ti piace molto e ti fa sentire attraente indossalo e goditi la sensazione di benessere e di sicurezza che l'immagine nello specchio ti procura piano piano osserva l'espressione del tuo volto scarica la tensione e immagina un ambiente a te con geniale fai piccole espressioni facciali accenna un sorriso e in piena rilassatezza ripeti questa frase sì mi piaccio così a questo punto puoi anche metterti a tavola attraente the Elliot